merita business podcast il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business a cura di giorgio minguzzi benvenuti su merita business podcast io sono giorgio minguzzi e oggi parleremo di calligrafia o forse dovremmo dire grafia perché calligrafia sta già a significare etimologicamente qualcosa in più cioè bella grafia ma questa è un'altra storia e non ci vogliamo addentrare in questo argomento oggi oggi quindi parleremo soltanto di calligrafia che al pari dell'india e delle sostanze per aprire la mente riusciva davvero a catturare l'immaginazione del giovane steve jobs a 17 anni nel 1972 quattro anni prima di avviare la apple computers steve jobs si iscrisse al reed college a portland in oregon da anticonformista sceglie già una delle università più anticonformiste e costose degli stati uniti la retta infatti toccava i 50 mila dollari l'anno che per quei tempi erano davvero cifre astronomiche ma al giovane jobs gli studi gli sembravano una grande perdita di tempo e di denaro dei genitori così decise di abbandonarli e di frequentare un solo corso quello di calligrafia lo stesso jobs ricorda così questa scelta infatti nella sua biografia dice ho abbandonato il reed college dopo appena sei mesi però prima di lasciare definitivamente la scuola mi sono imbucato in un corso per altri 18 mesi che cosa c'era quindi nella calligrafia che illuminava steve jobs come viene scritto da lui nella sua biografia ad affascinare era l'equilibrio tra il bello e l'utile tra la forma e la funzione che poi è ciò che di fatto definisce il design ora ovviamente steve jobs è un'icona ma a chi non è capitato di interrogarsi su un font sul font per il proprio logo aziendale sul font del proprio sito web del proprio biglietto da visita insomma oggi parliamo di caratteri e di calligrafia e lo facciamo con una designer karin marzaro una bravissima illustretrice e visual designer che vive vicino a udine che fa dei lavori bellissimi che poi vi linko nelle note così ve li andate a vedere ora non facciamolo aspettare troppo karin benvenuta su merita ciao a tutti ciao giorgio e grazie mi fa molto piacere essere su merita biz grazie grazie per il tempo che ci dedica è sempre una cosa preziosa senti entriamo nel vivo dell'argomento di oggi prima di capire come si scelgono i font giusti per un progetto parlo di un sito un biglietto da visita un volantino quel che l'è ci aiuti a conoscere un po meglio il magico mondo dei caratteri in particolare nella mia esperienza tornano una serie di termini dei quali io alla fine ignoro il significato corretto mi dai una mano a fare chiarezza diciamo parliamo di black letter calligrafico calligrafi celtic medieval comic cartoon and writing pixel cioè ce ne sono tanti ecco e tornano sempre cosa vogliono dire sì mi rendo conto che quando ci troviamo sui vari siti di font le categorie siano infinite e siano sempre di più si continuino a moltiplicarsi e non si capisce niente quindi finisce che clicchiamo tutti perdiamo mezza giornata e alla fine della giornata abbiamo concluso niente c'è una classificazione che adottata universalmente che secondo me ci può aiutare un pochino a distinguere in maniera semplice le varie famiglie di caratteri e questa classificazione è tagliata come dire sul su un elemento particolare del carattere che sono le grazie le grazie sono nient'altro che quei piccoli terminali di raccordo alle fine delle delle aste dei caratteri che avevano inizialmente una funzione puramente tecnica e poi è diventata una decorazione che però aiuta molto la leggibilità del carattere la classificazione dei caratteri viene fatta secondo l'evoluzione del carattere quindi certo i primi caratteri che incontriamo nell'alfabeto latino erano le classiche trascrizioni sulle sulle steli sulle lapidi e quindi il punto d'origine della tipografia moderna possiamo definirlo identificarlo con i caratteri graziati lapidari le grazie in questo caso servivano proprio agli scalpellini che incidevano la pietra a chiudere le lettere quindi sono nate proprio come una necessità queste grazie il punto d'origine possiamo dire così della di questi caratteri deriva dalla famosa colonna di traiano quindi stiamo parlando circa del del 100 dopo cristo e da lì in poi parallelamente la tipografia è evoluta in in ambito di scrittura manuale e quindi lì la tipografia aveva le sue caratteristiche rispetto agli strumenti che venivano utilizzati per scrivere che davano che conferivano una caratteristica ai caratteri da lì derivano i gotici quindi black letter e li identifichiamo attorno al 1200 quindi attorno al periodo medievale tutto il periodo degli amanuensi della trascrizione manuale dei libri arriviamo poi alla metà del 400 dove il famoso butenberg con la sua bibbia intraprende finalmente il percorso di stampa industriale moderna così come l'abbiamo conosciuta fino a qualche tempo fa e la composizione ha caratteri mobili quindi dei caratteri disegnati incisi nel piombo che venivano poi utilizzati per riprodurre in grandi tirature le pagine stampate in questo caso però i famosi la derivazione dei black letter dei gotici diventava poco leggibile e si è reso necessario un ulteriore step evolutivo da qui siamo arrivati ai graziati veri e propri come li conosciamo adesso che si chiamano i romani antichi quelli di quel periodo storico le migliorie tecnologiche poi permettono di andare a migliorare il disegno di questi caratteri fino ad arrivare a dei a delle grazie con dei raccordi più più belli più morbidi più raffinati e quindi attorno al 1700 arriviamo finalmente ai romani moderni ai romani transizionali pardon e un esempio è il classico baskerville e successivamente questo processo continua spingendo sempre di più sulla tecnologia per arrivare ad avere delle grazie estremamente geometriche estremamente sottili e finalmente si arriva ai romani moderni o bodoniani del nome deriva dal dal buon giambattista bodoni per farvi un esempio avrete tutto in mente il logo di vog la rivista di moda e quello è un carattere bodoniano in particolare un didò bodoniano esatto sono nomi che tornano no sì nel senso che uno li ha già sentiti nominare però io faccio fatica a identificarli quindi dopo nelle note della puntata mettiamo alcune immagini in modo da da poter confrontare quello che abbiamo detto con qualcosa di visivo però effettivamente quando parli della rivista vogue viene abbastanza in mente ecco è vero sì il tiro il tiro di quel carattere specifico vi dà subito l'idea di cosa stiamo parlando non è abbastanza nella nell'immagine collettiva nella nella memoria collettiva fa magari può far strano pensare che quel carattere è un carattere che è stato disegnato nel 1700 no però per tutt'altri scopi e adesso viene associato invece sempre un'immagine di moda di lusso di un certo tipo di di impressione no che dà davvero 250 anni non sono proprio assolutamente direi proprio di sì e niente proseguiamo con la nostra piccolo viaggio nella storia della tipografia arriviamo al 1800 nel periodo di grandi scoperte archeologiche ed euforia egittologica dal momento la tipografia arriva ad una evoluzione opposta a quella che c'era stata fino a prima ovvero mentre prima le grazie diventavano un segno grafico e si sono assottigliate fino a diventare dei filetti veramente delicatissimi arriva arriviamo qui invece al posto quindi le grazie si spessiscono tanto quanto le aste verticali e abbiamo i caratteri che vengono nominati egizi o slab serif l'evoluzione poi fa in modo che la tipografia passi dall'essere semplicemente un mezzo per stampare divulgare testi sacri libri e informazioni di un certo tipo diventa poi un fenomeno di massa quindi le informazioni che vengono veicolate diventano altre arrivano i volantini arriva alla pubblicità la segnaletica un altro tipo di comunicazione che permette la tipografia industriale e di conseguenza l'ultimo step il grande salto è stato parallelamente alla grande rivoluzione industriale arrivare ad eliminare completamente le grazie e qui arrivano i bastoni detti anche lineari o sans serif che conosciamo bene perché sono grandi caratteri che penso tutti abbiate in mente il famosissimo alvetica e suo fratellino tra virgolette copiato ariel ci sono state varie varie questioni in merito e quindi questi caratteri hanno delle caratteristiche loro sono estremamente segnaletici molto leggibili e portano con sé tutta una una serie di caratteristiche che poi magari vi racconto meglio nello specifico altre classificazioni particolari che ci terrei a segnalarvi sono magari quelle dei calligrafici che dall'avvento della tipografia digitale ci permettono di gestire un gran numero di stili calligrafici vari più o meno leggibili che vi invito ad usare con molta moderazione esatto e poi c'è tutta una serie di caratteri fantasiosi che vengono definiti display dove abbiamo simulazioni di vari tipi di stili di stili letteristici da insegne cose molto fantasiosi fino ad arrivare all'illegibilità più totale e infine i dingbats che sono delle raccolte di simboli epitogrammi in generale sì sì ho presente ho presente comunque è una bella carrellata senti ma hai citato i caratteri calligrafici no che sono da usare con moderazione e mi è venuto in mente la questione della leggibili ecco che cos'è la leggibili e in che cosa si differenzia dalla readability scusa readability beh appunto sono delle leggere diversificazioni di senso che funzionano nel vocabolario inglese perché in italiano diciamo sempre leggibilità in realtà con leggibili si va ad intendere la facilità di lettura relativa proprio al disegno del carattere tipografico mentre con readability ci stiamo riferendo alla chiarezza espressiva di un testo scritto quindi nel merito proprio del senso di quello che abbiamo scritto ok fammi capire un attimo ma in che cosa consiste la più o meno leggibilità di un carattere quali sono gli aspetti da tenere presenti quando quando scelgo un carattere ecco sulla sulla leggibilità allora ci sono alcune caratteristiche che conferiscono più o meno leggibilità ad un carattere la prima sicuramente è la proporzione dell'occhiello rispetto al corpo del font detta così non si capisce niente in realtà l'occhiello possiamo definirlo la parte centrale di un carattere se voi immaginate a un testo scritto prendiamo ad esempio una o minuscola quello è il l'occhio del carattere rispetto al corpo del carattere il corpo è tutta la dimensione del font che include dalla parte più alta che potrebbe essere l'accento di una e accentata fino a uno spazio leggermente che sta leggermente sotto ad esempio la gambettina di una g minuscola quindi il corpo è tutta la dimensione del font l'occhio è la parte centrale il fatto di avere una parte centrale più grande rispetto alla proporzione generale del corpo aumenta la leggibilità del carattere altri elementi che possiamo citare sono il contrasto ovvero la differenza di spessori fra le aste verticali e le aste orizzontali del carattere un eccesso di spessore o un'assenza di spessore possono rendere il carattere un po più faticoso da leggere in relazione alla dimensione che è un altro degli elementi che vanno tenuti bene in considerazione in base a quello che stiamo scrivendo e a dove verrà utilizzato in ambito di progettazione grafica si cerca di pensare di essere sempre leggibili per tutti e il classico test che si fa è una volta che si lavora su un progetto grafico dove magari ci sono tante informazioni i testi che devono essere un pochino più piccolini banalmente far far vedere una una prova una bozza a nonno al padre al cugino che magari ha l'occhiale da vista e se lo legge lui il nostro progetto può può andare avanti serenamente ultima cosa che vorrei consigliarvi per quanto riguarda la leggibilità è tenere sempre ben presente l'ambiente nel quale verrà inserito il nostro carattere tipografico e la tecnologia sulla quale verrà riprodotto e per tecnologia intendo anche la carta perché aspetti ai quali non si fa abitualmente caso sono anche la scelta della carta il colore del dell'impasto della carta un'enorme importanza così come l'assorbimento dell'inchiostro sulla carta eventuali texture o finiture sono tutti elementi che concorrono alla tenuta di un carattere e alla sua leggibilità lo stesso vale se stiamo lavorando con testi che andranno su new media quindi che andranno visti su smartphone tablet e schermi in generale sì sì sullo spessore non so qualcosa perché il diciamo il font scelto per merita è abbastanza sottile e quindi non è che non si legge ma da delle limitazioni di utilizzo non puoi farci esattamente quello che vuoi ecco quindi tornando proprio a questo aspetto come faccio a scegliere un font giusto per il mio progetto a proposito è un font la font cos'è il seo la seo cioè questa è un'altra delle grandi questioni perché ci sono delle scuole di pensiero alcuni dicono sempre tassativamente la font e alcuni dicono sempre il font in realtà io ormai scherzosamente dico che fonte è gender fluid ovvero decide lui non c'è una regola generale l'accademia della crusca si è espressa in generale essendo font una parola che deriva dal francese e sta per la fonte intendendo proprio il carattere di stampa in piombo dovrebbe essere femminile ma poi insomma ce ne siamo sbattuti come molte volte capita ognuno se la vive come come preferisce ha vinto l'ignoranza anche stavolta ha vinto esatto la libertà di scelta e di opinione quindi a seconda della vostra sensibilità attribuitegli il genere che più preferite bene quindi come faccio a scegliere il mio font o la mia font giusta allora anche qui ci sono delle cose che vanno tenute in considerazione prima di iniziare un progetto alcune domande che faccio sempre sono a cosa servirà il mio il font che andrò a scegliere dovrò farci della comunicazione stampata o dovrò farci della comunicazione digitale o entrambe le cose insieme a che dimensione dovrò utilizzare il mio carattere tipo grafico e poi andiamo sulle domande un po più filosofiche diciamo così ovvero qual è la voce e lo stile comunicativo che devo veicolare per il mio progetto ogni ogni mio committente ogni progetto sul quale lavoro ha delle caratteristiche ha delle cose che deve comunicare un target di riferimento e un messaggio e io in base a tutte queste informazioni devo capire qual è la sua il suo tono di voce questo è un un tipo di cosa che viene molto sentita in ambito di social media ultimamente il tono di voce devi dare il tono di voce il tono di voce lo dai moltissimo attraverso anche questo tipo di presenza col carattere che vai a scegliere per il tuo progetto e un'altra domanda sulla quale si casca spesso perché uno inizia a impaginare tutto bello felice poi salta fuori che c'è un'altra lingua e il carattere che hai scelto non ha tutti i glifi necessari quindi sapere da subito prima in quante in quante e quali lingue dovrò utilizzare il mio carattere questo ci evita un sacco di mal di testa in una fase successiva in generale potrei dare due riferimenti appunto sui graziati lineari appunto i caratteri graziati sono solitamente più scorrevoli e riposanti nella lettura questi elementi decorativi dei quali vi parlavo prima le grazie aiutano l'occhio a riconoscere la forma della lettera ed è per questo che vengono utilizzati per testi lunghi e fitti e quindi li troviamo nei romanzi nella letteratura e nell'auditoria in generale al contrario i lineari appunto sono estremamente leggibili quando vengono utilizzati in dei layout che abbiano anche dello spazio bianco intorno che siano ariosi e dandogli il giusto respiro ma tendono ad essere un po più freddi ed è per questo che vengono spesso associati ad informazioni tecniche più veloci nella fruizione e più tecniche e quindi li troviamo nei manuali d'uso ad esempio e in un tipo di informazione appunto più più diretta più 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 veloce sì quanti ne devo scegliere perché io ho presente che tante volte quando facevo siti web anni fa o comunque quando lavoravo in aziende dove si facevano siti web il cliente arrivava e aveva 36 tipi di caratteri che gli piacevano e voleva usarli tutti come ci regoliamo sì anche qua la scelta vincente è sempre il less is more e quindi in generale consiglio assolutamente di non utilizzare più di due caratteri tipografici insieme e già secondo me la scelta di due caratteri tipografici che funzionino bene fra loro non è una cosa scontata quindi mantenere assolutamente la semplicità scegliere un carattere che funzioni potrebbe essere già sufficiente dandogli un giusto ritmo lavorando semplicemente con la dimensione magari e la declinazione del peso quindi possiamo potremmo avere a disposizione un bold un grassetto o dei pesi intermedi fra il disegno regolare e la sua versione più spessa quindi potrebbero esserci dei semi bold o delle versioni più leggere dei light già la scelta di un unico carattere con alcune declinazioni può essere sufficiente non andiamo oltre i due proprio perché come vi dicevo è complicato associarli ci sono tutta una serie di parametri che rendono armoniosa la scelta di due caratteri che funzionino bene insieme se decidete di utilizzarne due il consiglio è non utilizzare mai due caratteri della stessa categoria ovvero due caratteri lineari insieme due caratteri graziati insieme ma scegliere ad esempio un serif e un san serif in modo da creare del ritmo e dell'interesse nella vostra composizione tipografica molto interessante perché tu dici che se io scelgo uno con o senza giustamente l'intervallarsi genera ritmo è vero è vero non ci avevo pensato senti ma questa è una domanda molto interessata nel senso che è una questione che riguarda anche me quando produco magari quelle immagini che accompagnano i post dei social che valore ha la costanza dell'impiego sempre della delle stesse font che ho scelto per il mio il mio brand o il mio sito cioè è importante che in queste immagini ci sia costanza nell'utilizzare sempre gli stessi caratteri ma assolutamente sì mi capita spesso quando racconto ai miei committenti ai miei clienti ai miei collaboratori come viene svolta questa fase di scelta del carattere tipografico di ricevere degli sguardi meravigliati perché si ci si stupisce di quanto tempo si possa dedicare nella scelta di un carattere tipografico e di quanto possa essere importante nella comunicazione di un progetto dal mio punto di vista appunto la scelta e l'utilizzo di un carattere ha lo stesso enorme impatto che possono avere il colore e la composizione degli elementi per contribuire a creare un'identità forte del progetto assolutamente in ogni progetto di comunicazione c'è ci sono delle caratteristiche specifiche come vi dicevo prima c'è uno scopo e c'è un target al quale deve deve arrivare e deve avere appunto la sua voce e il carattere è uno strumento estremamente potente per dare personalità ma anche solo per creare un'atmosfera per veicolare anche un'emozione a volte appunto mi rendo conto che può sembrare una parola eccessiva a parlare di emozione di caratteri tipografici ma se io ad esempio scrivo la parola leggero con un carattere tipografico che sta dicendo l'esatto contrario quindi molto nero molto spesso un impact esatto per parlare di font che più o meno conosciamo tutti l'impressione che avrò non è di leggerezza non è di qualcosa di lieve ma è qualcosa di pesante che mi sta trascinando verso il basso e lo stesso è se ad esempio scrivo la parola delicato con un carattere spesso e grosso o se scrivo roccioso che deve essere appunto qualcosa di forza di dirompente ma lo scrivo con un carattere calligrafico col quale potrei scrivere gli inviti del mio matrimonio l'effetto che otterrò non è di solidità e di forza ma è qualcosa di contrario e quindi in un'identità che funziona niente è lasciato al caso e la costanza nell'impiego del carattere che scelgo è assolutamente fondamentale per comunicare efficacemente la sua presenza mi viene in mente appunto immaginare la regina di Inghilterra che noi associamo sempre ai suoi meravigliosi taglierini colorati è come se un giorno lei uscisse in babbuce e vestaglietta perché per una volta cosa vuoi che sia no la regina di Inghilterra esce col taglierino e quindi no la nostra comunicazione se è stata pensata con quel carattere tipografico dovrà sempre presentarsi con quel carattere tipografico è una questione proprio di struttura di quello che stiamo dicendo quindi va assolutamente sempre usata con molta costanza fino a che non vi rendete conto che il vostro carattere tipografico quello che avete scelto vi sta facendo parlare con una voce che non è proprio la vostra quindi non vi rappresenta più quando voi vorreste dire sono professionale sono serio e sto perfettamente cosa sto facendo e invece quello che vi sta facendo dire è sono molto romantico mi piacciono le peonie e compongo haiku ho capito quindi da domani rifaccio il mio sito col comic sun tra l'altro ecco vorrei spendere una parola sul comic suns io credo di essere una delle poche persone che non ce l'hanno col comic suns va bene dai perché questa me la devi spiegare però no semplicemente perché c'è insomma c'è questo accadimento collettivo nei confronti dei comic suns in realtà il comic suns è un carattere che era stato disegnato apposta per un programmino microsoft che ti permetteva di creare dei fumetti e poi è stato portato fuori da lì e iniziato a utilizzare in maniera massiccia un po da tutti dal medico di base dall'ufficio comunale eccetera chi non ha mai fatto un volantino parrocchiale assolutamente però dal punto di vista della leggibilità vi stupirà sapere che ad esempio è un carattere molto più leggibile per tutte le persone che hanno delle difficoltà come la dislessia ad esempio ah questa è una novità questo non lo sapevo esatto quindi può risultare addirittura più leggibile e secondo me il vero nemico sono altri caratteri tipografici orribili tipo il papirus o il brush script che vengono utilizzati anche questi in maniera totalmente non consona e sono dappertutto e sono molto più brutti secondo me papirus è brutto è brutto brutto sì è proprio brutto senti immagino che quando uno carica il font da qualche parte sui suoi strumenti per gestire immagini eccetera li debba mettere da qualche parte solo che ho notato che se li metto tutti su photoshop la macchina mi si inchioda terribilmente come posso risolvere questo problema? sì assolutamente chi lavora con molti caratteri tipografici deve trovare un modo per gestirli per evitare di rallentare le proprie macchine caricando all'avvio migliaia di font perché stiamo parlando di migliaia di font per riuscire a fare questo lo si fa passando attraverso dei font manager che permettono sia di suddividere i vari caratteri tipografici in cartelle secondo la nostra personale scelta di suddividerli alcuni li suddividono per stile quindi graziati, bastoni lineari eccetera o proprio per fonderie anche quindi per categorie per il nome del creatore del font quindi ci permettono di avere sia la possibilità di non caricare all'avvio tutte le migliaia di caratteri ma anche di classificare e di organizzarle al meglio questi font manager ve ne cito un paio ovviamente sono dei software a pagamento perché sono dei software professionali i più famosi, più utilizzati sono Font Explorer e Suitcase Fusion per chi invece non avvesse la necessità di utilizzare decine di migliaia di font ma magari ha l'unica esigenza di caricare il proprio carattere tipografico solo sul proprio computer consiglio di proseguire così quindi acquistare la licenza del font e caricarlo su tutte le macchine sulle quali andrà a lavorare i propri progetti non è un grosso dispendio di energie per il computer quando sono pochi quando sono pochi si possono gestire direttamente nel libro font del proprio computer è che se li metti tutti di tutti i tuoi progetti dopo cominciano a diventare tanti però se ne gestisci uno non è un problema esatto proprio per questo quando l'esigenza inizia ad essere un pochino più di qualche font aggiuntivo rispetto ai font di sistema allora assolutamente consiglio di passare per un font manager in questo momento poi l'ambito della gestione del font si sta un po' spostando nel cloud e quindi ci sono ad esempio delle soluzioni di abbonamento come Adobe che fornisce la propria suite e che sta integrando anche questa parte di gestione dei font attraverso Typekit ad esempio ah è chiaro quindi dopo sono tutti nel cloud io se ho accesso a internet li prendo da lì e sono a posto esatto e beh utile utile senti ma dove li trovi i font giusti per guardarli, giocarci, farmi un'idea? allora in generale trovate sicuramente i caratteri sui siti delle fonderie si chiamano ancora così una volta erano proprio le officine che disegnavano e fondevano i caratteri tipografici in piombo e ora sono digital foundry quindi continuano a chiamarsi fonderie e sono nient'altro che i produttori di caratteri tipografici ce n'è veramente a decine se me li citassi tutti staremo qua fino a 2027 quindi una scelta vincente che vi consiglio di fare sono gli aggregatori quindi le piattaforme dove vengono inserite più fonderie il più famoso è sicuramente MyFonts dove trovate anche una buona possibilità di vedere delle anteprime e di testare i font scrivendo voi le parole le parole chiave che vi possono interessare per vedere qual è esattamente la forma di quella lettera e il disegno di quel caratteri tipografico senti carino io ho visto che però c'è una sorta di problema quando vado a scaricare i font da questi siti molte volte sono incompleti e mi sono azzardato a leggere il file txt perché nessuno penso che lo legga mai che li accompagna e non è proprio così chiaro che io li posso usare anzi molte volte hanno delle licenze d'uso che sono veramente che mi mettono in zone grigie ecco dove non è facile capire se io ho veramente titolo di usare quel carattere oppure no come posso fare per essere certo di poter usare tutta l'estensione e non solo alcune lettere o solo le maiuscole di un carattere allora sì come hai giustamente detto tu la cosa che dovremmo sempre fare prima di utilizzare un carattere tipografico per un progetto commerciale è leggere la sua licenza d'uso quando acquistiamo il font ovviamente siamo tutelati dal nostro acquisto e la licenza è solitamente sempre molto chiara e definisce in maniera inequivocabile per cosa lo possiamo utilizzare quando invece andiamo a scaricare quelli che sono i font gratuiti fino a qualche tempo fa effettivamente rimanevamo un po' col dubbio del come e dove utilizzare in generale i font gratuiti erano consentiti su progetti personali quindi niente che passasse per un fine aziendale commerciale dove c'è uno scopo di lucro finale inoltre appunto erano spesso incompleti quindi magari trovavamo il font ci sembrava bello, utile, interessante, leggibile poi quando iniziavamo a utilizzarlo ci rendevamo conto che mancavano ad esempio le lettere accentate o parte della punteggiatura e questo lo rendeva assolutamente inutilizzabile fortunatamente negli ultimi anni c'è stato un grosso incremento di tutto quello che è l'ambito open source anche per quanto riguarda la tipografia quindi ad oggi troviamo delle ottime alternative gratuite che ci consentono di avere sia delle famiglie di font complete con diversi pesi e con delle licenze chiare e che possiamo utilizzare sui nostri progetti vi cito il famosissimo google font che oltre ad essere compatibile per tutto l'ambito web ci permette anche di scaricare le famiglie e di utilizzarle nei nostri progetti ovviamente il consiglio è sempre quello quando scaricate qualcosa prendete sempre visione della licenza e accertatevi nel dettaglio di come e dove potete utilizzare quel materiale certo perché poi ci sono cose spiacevoli da scoprire dopo senti il tempo come al solito è tiranno sarebbe bello continuare a parlare di caratteri perché comunque tutti noi abbiamo voglia di guardare un attimo con più attenzione quello che ci riguarda perché un logo ha anche una parte di carattere oppure il sito comunque usa dei caratteri il sito ci rappresenta il logo ci rappresenta quindi abbiamo interesse tutti quanti ad un'attenzione più specifica nei confronti dei nostri piccoli amici però il tempo come dicevo è quello che è senti dove ti possono trovare gli ascoltatori in modo che possano continuare il dialogo con te anche direttamente? certo beh mi trovate sicuramente sul mio sito che è karinmarzaro.com karin con la c da lì poi trovate anche i link oppure mi potete cercare sia su instagram che amo molto twitter behance e linkedin basta cercare karinmarzaro con la c e mi trovate certo poi io metterò tutti i link e le note nelle note della puntata quindi non ci sarà problema Karin che dire grazie per essere stata con noi e averci fatto scoprire le font grazie mille Giorgio spero di aver fatto appassionare qualcuno in più al fantastico mondo dei font e per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione e a presto grazie ancora grazie davvero ciao ciao bene siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di font con Karin Marzaro grazie per essere stati con Karin e con me durante tutta la puntata di oggi se avete voglia di farci sapere la vostra opinione fare una domanda o se volete lasciare semplicemente un saluto veloce potete passare a trovarci su merita.biz tutti gli appunti e link citati da Karin durante la puntata sono lì che vi aspettano come al solito vi ricordo però una cosa importante su telegram.me barra merita.biz trovate il nostro canale telegram io ogni volta ricordo il nostro gruppo facebook ecco ma so che molti di voi ci seguono proprio attraverso telegram quindi non mi resta che ripetolo un'altra volta telegram.me barra merita.biz tutto attaccato così ci seguite anche lì bene davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao Merita Business Podcast la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa ci trovi su iTunes Stitcher Spreaker e Google Play www.merita.biz www.merita.biz Spreaker Spreaker Deter